Gente, oggi, ieri, domani, vero, verissimo, novella 2000, novella 3000, donna moderna, uomo d'altri tempi, chi come, dove, quando, perché, ma lei lo sa che me lei si è lasciata con corona, ha avuto un ritardo adesso incinta di un amico. Quella sera, quando Franco è andato a casa, ho guardato la televisione e l'ho accesa. Mi somigliate così tanto. Come possiamo somigliarci? È mio padre adottivo. Per darla col culo, per darla in mutarla, senza mutarla, senza mutare! La seconda possibilità. Il Presidente della Repubblica ha parlato oggi dei grossi passi in avanti che ha fatto la nostra economia in quanto l'inflazione, no la deflazione, lo spread, guardiamo il servizio Operazione in corso, a prendere prego Attendo grazie Vaffanculo, do a tento di dargli un accesso e non discutere Scusi, io non è che sapevo Che coloro ce l'ha lontano? Rosse signore Dai, dai, fai quello bravo adesso, guarda se ce lo riesce, guarda Cazzo però sono rosse Sono rosse? Sì Cazzo è bravo Tocca a te Il tuo buffo gilet Con piccole cose Che amano te Big Bess Big Bess From Kiwis She's fine She's fine She's fine She's mine or mine Best battle players Call her Tik Tok Where to eat ice cream And drink Soda pop Play high class music From two to four They'd chow, chow, chow Till the feet get sore Big Bess Big Bess From Kiwis She's fine She's fine She's fine She's fine She's fine She's fine Grazie a tutti